Buongiorno Cerries, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Stacuri e questo è un momento di novità su questo canale perché oggi vi propongo un video un po' diverso dal solito, nel senso che sono stata invitata da Simone in Arte Bon DJ sia su Instagram che su YouTube a rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dai suoi utenti rispetto alla vita in Norvegia in generale. Lui ne ha selezionate alcune, io ho risposto, ho trattato degli argomenti di cui non avevo più di tanto parlato sul mio canale quindi penso che la cosa vi possa interessare. Dopo la sigla vi lascio alcuni stralci di questa video intervista e qui sotto invece nell'info box vi lascio il link al video integrale sul suo canale YouTube così potete vedere tutte le domande e le mie risposte per l'intero. La domanda sulla cucina me l'aspettavo. Dunque, come da noi abbiamo un po' questa battaglia tra chi è team Pandoro e team Panettone qua c'è il team Ribbe e il team Pineshet. Le Ribbe è un'esperienza che mi sento di consigliare a chiunque specialmente a chi ama tanto la natura e bei paesaggi qua veramente ogni scorcio sembra una cartolina. Questione lavorativa, vi direi una bugia se vi dicessi no in Norvegia non c'è lavoro perché noi l'abbiamo trovato in due nel giro di quattro anni, ci siamo sistemati più che bene. Una cosa in cui l'Italia è infinitamente migliore rispetto alla Norvegia e qua vado sul sicuro, per me non c'è neanche margine di discussione e c'è un po' questa idea che i norvegesi sono molto chiusi, molto freddi invece in realtà no. Bene ragazzi, non so se ho suscitato la vostra curiosità con questi piccoli stralci delle mie risposte ma se così fosse vi ricordo che come vi avevo anticipato all'inizio del video trovate il link per vedere il video integrale qui sotto nel mio infobox. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi mando un bacione gigante e alla prossima! Adebra!